La conclusione di Olivera, tornatore! Per due volte a dire di no! Una sorta di portiere di movimento, ambozzato con l'uscita di Lion, che adesso gaccia in porta! Mamma mia, che brivido! Un missile di Lion! Kinkyo è volato, lo rivediamo, fa toccare forse palo anche con la coordinazione giusta. Vediamo il tunnel di Carmelo Musumeci, la giocata ancora è il numero 22 poi di punta. Mammarella ancora, Mammarella è incredibile! Nove in pagella per Stefano Mammarella! Quattro! 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 Quattro!